bentornati su canale non aprite questo blog allora faccio questo blog col cellulare perché sono successe delle cose allucinanti sabato ho registrato tutta la mia giornata alla l'inaugurazione della movies a bologna è stata una giornata fantastica dove o dove ho potuto incontrare alcuni iscritti amici gente che appassionati di horror giacomo joannis da low movies insomma ho visto il negozio purtroppo però la memory card con cui ho registrato tutto si è rotta e ho perso tutto il girato e non solo non riesco a registrare i video che avrei voluto registrare perché la memory che ho a una velocità di scrittura che non permette di registrare quindi sono qua col cellulare amareggiato però ho deciso che voglio farmi sentire volevo farmi sentire da voi volevo aggiornarvi avrei voluto fare la recensione di miss omar ma sinceramente un film così importante non può essere registrata con un cellulare la recensione deve essere seguire lo standard di tutti gli altri video secondo me vediamo cosa riesco a fare nei prossimi giorni ringrazio giacomo joannis che mi ha lasciato altri film che vi farò vedere prossimamente che mi sono anche comprato per supportare il progetto spasmo video la maglietta mi ha lasciato mi ha lasciato anche dei fantastici adesivi spasmo video freak video le due bellissime spille della home movies niente mi spiace farmi vedere così abbattuto ma volevo un po scacciare questa questa amarezza registrando i nuovi video ma evidentemente non non gira bene in questo periodo da questo punto di vista dal per tutto il resto invece gira tutto veramente molto bene nel senso che il progetto non aperto questo blog non mi aveva mai dato così tante soddisfazioni dal punto di vista sia professionale del progetto sia personale perché le persone che seguono non aperto questo blog sono molto appassionate mi stanno dando tantissimo o troppo sto trovando degli amici alcuni sono venuti facendosi anche un bello sbattimento fino al bologna per l'inaugurazione ma anche per incontrare me e questo è incredibile cioè mi fa veramente un piacere enorme e spero di poter ricominciare a fare i video come al solito le live farò le live anche mentre sono in vacanza al mare quindi non vi lascerò mai farò i video anche mentre sono in vacanza al mare è un cazzo questo è quanto mi veramente do un abbraccio a tutti quelli che sono venuti che sono venuti per ma porca puttana e comunque non vi posso dire niente ragazzi ci vediamo ci vediamo al prossimo video adesso trovo un modo per per fare dei video il prima possibile ci vediamo al prossimo video ciao